La battaglia sulla cabinovia continua sul filo delle diverse interpretazioni degli atti giudiziari e amministrativi sull'opera. L'ultima sentenza del TAR è stata giudicata estremamente positiva dal comitato Novovia, perché, ha spiegato il portavoce William Startz, ha stabilito che i cittadini danneggiati hanno diritto di opporsi al progetto comunale, ma non solo. Ma soprattutto perché, alla luce di quanto noi abbiamo fatto valere in questi mesi, direi ormai in questi anni, tutta la parte relativa alla procedura per uscire dal dettame di legge che vieta questo tipo di impianti in zone di Natura 2000, la procedura che ha seguito la regione suffragata dai documenti che di volta in volta ha presentato il comune, è stata abrogata dalla sentenza del TAR. L'opera non si può fare all'interno delle zone di Natura 2000. Insomma, lungi dal bocciare i ricorsi del comitato, che avrebbe invece accolto nel nucleo essenziale, il TAR avrebbe, secondo questa interpretazione, richiamato più volte Comune e Regione a considerare di rivedere o ritirare piani e progetti pregiudizievoli per l'integrità del sito. In sintesi, al momento attuale, il divieto di legge per l'opera resterebbe assoluto, il tutto a prescindere dall'ultima delibera della regione sul procedimento di valutazione vinca, che il comitato non esclude di impugnare. Ci siamo consultati con i nostri legali e, qualora la regione non ritiri la delibera, di sicuro la impugneremo e andremo avanti. Voglio ricordare che al TAR sono sospesi ancora due ricorsi, fatti da altri residenti e dalle comunelle, e un ulteriore ricorso che abbiamo presentato noi. Quindi andiamo avanti, noi non ci fermiamo e speriamo che si fermino gli altri e che si chiuda questa penosa vicenda che impegna risorse finanziarie e umane consistenti già da troppi anni per fare un buco in acqua.